Si chiama Rossi Mercado, è una modella tra le taglie forti, molto seguita nei social media ma anche nei social network. Tuttavia sarebbero arrivati i passaggi minatori nei suoi confronti quando la donna in questione ha incominciato a perdere peso. 107 i chili che la donna ha perso, ma le sue forme non sono più le stesse, non sono più quelle di prima. Rossi avrebbe raccontato che è iniziata a ricevere lettere di odio e di minacce in cui si invitava a suicidarsi. I fammi intimavano di saltare giù da un punto e di uccidermi i followers. Sono stati contrari infatti alla perdita di peso di questa bella donna, ma lei finalmente ha deciso di dire la sua, ha deciso di dire che si sente bene con se stessa. Questo cambiamento di stile di vita non ha paura di qualsiasi cosa, mi sento finalmente riuscita, così avrebbe dichiarato la donna americana. La modella è diventata nei social network, non si è fatto su Instagram, per le forme abbondanti. I fan però non hanno digerito molto il suo nuovo look, il suo nuovo, diciamo così, cambio di corpo, di aspetto. Grazie di tuo cuore per gli gentili ascolto, iscrivetevi, commentate e un caro saluto a voi tutti.